Ciao bentornati! Finalmente dopo una lunga assenza dal canale e ancora più lunga dal mare torno a pubblicare un video e fortunatamente è anche un video di pesca. Questa è la prima uscita che faccio da dopo l'operazione ho trovato qualche difficoltà dovuta sia ai dolori del collo per guardarmi a destra e sinistra durante gli aspetti sia nel caricamento del mio volo pneumatico da 100. Comunque tutto sommato il mare ha deciso di ripagarmi quindi vi lascio al video di questa cattura Grazie! 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 Ciao a tutti e alla prossima!